IT Workout, allenamento completo ad alta intensità intervallata con cardio ed esercizi per tutto il corpo. Iniziamo! Ok, iniziamo! Step touch, iniziamo il movimento laterale a destra e a sinistra, scaldiamo subito tutto il corpo, sia la parte alta che la parte bassa, prima di questo super workout. 5, 4, 3, 2, 1 e cambio! Calciata ai glutei, vai! Salgo in calciata verso i glutei, attiviamo gambe e glutei, scaldiamo bene tutta la parte bassa del corpo, aumentiamo i battiti. 5, 4, 3, 2, 1, cambio! Torsione del tronco, allargo le gambe, vado in posizione, torsione del tronco lenta e controllata. Iniziamo da subito ad attivare la respirazione, inspiro col naso e ispiro con la bocca. In tutti gli esercizi, 3, 2, 1, cambio! Corsa sul posto, aumentiamo sempre di più il ritmo, scaldiamo le gambe, ginocchio, caviglie, 10 secondi. Iniziamo a lavorare anche sulle braccia, testa sempre dritta, corretta postura sugli esercizi. 3, 2, 1, cambio! Circonduzione delle spalle, vai! Circonduzione in avanti, movimento ampio, controllato, testa dritta, scaldiamo bene tutta la parte alta, spalle, delto e di braccia, pettorali. 5, 4, 3, 2, 1, cambio! Sempre circonduzione in spalle, movimento indietro, anti-orario, un pochino più lento, allarghiamo bene, sblocchiamo bene le spalle, prima di questo super workout, più ci scaldiamo e più lavoriamo. 3, 2, 1, distensione, braccia in avanti, vai! Tocco la spalla e in avanti, tocco la spalla e in avanti, scaldiamo bene le braccia, bicipite, tricipiti, testa sempre dritta, respirazione sempre attiva, naso, bocca, naso, bocca. 5, 4, 3, 2, 1, camminata plank più tocco ginocchio alternato, scendo in camminata plank, blocco l'addome, risalgo e tocco, risalgo e tocco. Respirazione mentre fai l'esercizio, scendo, camminata su plank, blocco l'addome, salgo, tocco, salgo e tocco, mantengo il ritmo e respiro, ancora, appoggio bene le mani a terra, passo, blocco, tocco e tocco. 3, 2, 1, step touch, vai! Movimento laterale a destra e a sinistra, muoviamo sempre le braccia, respiriamo, testa dritta, prossimo esercizio, jumping jack, aumentiamo un pochino l'intensità, 3, 2, 1, vai! Vai! Jumping jack, vamos! Salto sull'avampiede, movimento ampio delle braccia, vai! Testa dritta, mantengo il ritmo alto e respirazione, esercizio successivo, incrocio braccia orizzontali, tra 3, 2, 1, vai! Vai! Incrocio braccia orizzontali, vai! Approfittiamo per respirare, respirazione, naso e bocca, attiviamo bene tutta la parte alta, 10 secondi, esercizio successivo, squat completo più mezzo squat, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio, vai! Iniziamo l'workout, scendo bene, squat e mezzo squat, squat e mezzo squat, schiena dritta, guardo in avanti, punte aperte a 45, attiviamo gambe glutei e vamos! Vai! Mezzo squat e scendo in squat completo, 3, 2, 1, recupero attivo, riprendo fiato, respiro, ci mettiamo in posizione a terra, 10 secondi, partiamo con plank in movimento, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Posizione del plank, movimento delle gambe, addome contratto, testa dritta, braccia in linea con le spalle, mantengo il corpo in linea, lavoro sulle gambe, attiviamo le gambe, attiviamo l'addome, il lombare, respiro durante questo esercizio, ancora 10 secondi, resisti, fino alla fine non molare, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiriamo, riprendiamo fiato, esercizio successivo, salto laterale, più tocco mano a terra, ci prepariamo, 10 secondi, esercizio successivo, salto laterale, più tocco mano a terra, 5, 4, 3, 2, 1, vai! schiena dritta, non incurvare la schiena, saltello, vado giù, tocco, saltello, vado giù, tocco, mantengo il ritmo, agilità, tecnica, vado giù, tocco, saltello, apro, vado giù, tocco, schiena dritta, non ti fermare, ancora, 10 secondi, non ti fermare, ancora 5 secondi, 3, 2, 1, recuperiamo, piano, andiamo giù a terra, piano piano, ci prepariamo al prossimo esercizio, esercizio successivo, plank in corsa, quindi di nuovo posizione di plank e lavoriamo nella corsa, 3, 2, 1, vai! addome contratto, mantengo il ritmo, respiro, appoggio bene le mani, le braccia sono in linea con le spalle, vai! pam, 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 vamos! mantieni il ritmo ancora, 15 secondi, vai! non ti fermare, lavoriamo bene su gambe e addome, ancora! 5, 4, 3, 2, 1, ottimo lavoro, 30 secondi di recupero, attivo, respiriamo, riprendiamo un po' fiato! esercizio successivo, squat più a fondo indietro, curiamo la tecnica, 5, 4, 3, 2, 1, e vai! squat, a fondo indietro, squat, a fondo indietro, nell'affondo indietro il ginocchio sfiora il pavimento, ma non tocca, rimaniamo reattivi nel movimento, manteniamo il ritmo senza fermare, squat completo e a fondo, squat completo e a fondo, lavoro anche sulle braccia, testa dritta, vai! 5, 4, 3, 2, 1, ancora recupero, riprendo fiato! 10 secondi, ripartiamo con 3 jumping jacks più salto laterale, 3, 2, 1, vai! 3 jumping jacks e salto laterale, 3 jumping jacks e salto laterale, vai! velocizza il movimento, buttiamo fuori tutte le energie, reattività, testa dritta, 1, 2, 3, e salto, 1, 2, 3, e salto, vai! mantengo il ritmo, respiro, vai! e saltello, jumping jacks e saltello, 5, 4, 3, 2, 1, ok! 30 secondi, approfittiamo, recuperiamo, lavoriamo sempre con il recupero e nel momento dell'esercizio buttiamo fuori tutte le energie. 10 secondi di recupero attivo, esercizio successivo, plank più avanzamento della gamba, 5, 4, 3, 2, 1, vai! plank, piede alla mano, braccia tese lungo le spalle, testa dritta e andiamo con il lavoro. avvicino il piede alla mano, braccia tese, addome contratto, mantengo il movimento, vai! sali, sali, sali e sali, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, ci alziamo in piedi, respiriamo, esercizio successivo, salto sforbiciato, massima intensità, 5, 4, 3, 2, 1, vai! salto sforbiciato, velocità, reattività, sincronizzo il movimento con le braccia, pam, 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 vamos! mantieni il ritmo, ancora, testa dritta, respiro naso e bocca, respiro naso e bocca e mantengo il ritmo, vai! ancora, non ti fermare, gli ultimi 5 secondi, 4, 3, 2, 1, ok! ok, 30 secondi di recupero, scarichiamo! ci prepariamo al prossimo esercizio, plank più tocco spalle, lavoriamo addome e braccia, 5, 4, 3, 2, 1, vai! posizione del plank isometrico, scarico e tocco la spalla, scarico e tocco la spalla, vai! braccia tese, testa dritta, velocizo il movimento, mantengo il ritmo, addome contratto, gambe tese, corpo in linea, 15 secondi ancora, non ti fermare, butta fuori tutte le energie e poi facciamo il recupero attivo, vamos! 5, 4, 3, 2, 1, ok! recupero attivo, respiriamo, riprendiamo fiato! esercizio successivo, passo incrociato dietro più salto, 3, 2, 1, vai! passo indietro e salto, passo indietro e salto, mi aiuto con le braccia, saltello incrocio, saltello incrocio, mantengo il mio ritmo, baricentro in avanti, respirazione attiva, pam, pam, pam! ancora 15 secondi, vai, non ti fermare, sostieni fino alla fine, 5, 4, 3, 2, 1, ok! 30 secondi, recuperiamo, recupero attivo, riprendiamo fiato, 20 secondi e ripartiamo! 10 secondi, esercizio successivo a fondo laterale alternato, tra 5, 4, 3, 2, 1, allargo bene bene le gambe, schiena dritta, mi raccomando, testa dritta, più allargo le gambe, più allargo le punte e più c'è l'interessamento del lavoro anche su interno coscia, oltre ai glutei. siamo quasi a 100 calorie, spostamento a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, non ti fermare, vai! senti come lavorano le gambe, 3, 2, 1, ok! recupero attivo, respiro, sciolgo un pochino le gambe! 5, 4, 3, 2, 1, squat jacks, vai! sguardo in avanti, non guardare il pavimento per perdere la postura, sempre con una postura corretta, testa dritta e mantengo il ritmo, saltello, scendo, tocco, saltello, scendo, tocco, vai! mantieni il ritmo, respira, ottimo esercizio che lavora su gambe e glutei, fino alla fine vai, ancora! saltello e vado giù, saltello e vado giù, testa dritta, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, riprendo fiato, respiro! 10 secondi, esercizio successivo affondo indietro, mano a terra, più ginocchio su, 3, 2, 1, affondo, tocco terra, salgo, tocco ginocchio, tocco terra, salgo, tocco ginocchio, non incurvare la schiena, sempre testa dritta, scendo, affondo indietro, il ginocchio sfiora il pavimento, salgo e tocco! sincronizza bene il movimento delle braccia, tocco terra, salgo e tocco il ginocchio, ancora! 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo! esercizio successivo affondo indietro, mano a terra, più ginocchio su, lavoriamo sull'altra parte, 3, 2, 1, vai, scendo, tocco con la mano a fondo, salgo, tocco il ginocchio, vai, equilibrio, tecnica, non serve la velocità, attiviamo gambe e glutei, tocco con la mano, salgo e tocco col ginocchio, sincronizzo il lavoro delle braccia, 10 secondi, fino alla fine non molare, 5, 4, 3, 2, 1, 30 secondi, recupero attivo! 10 secondi, plank, 2 apro e chiudo, più 2 salto, apro e chiudo, 3, 2, 1, vai, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, salto, apro e salto, apro, ancora! apro, apro, chiudo, apro, apro, chiudo, salto e salto, controllo l'addome, non cedo con il bacino, testa dritta, 10 secondi, braccia tese, 5, 4, 3, 2, 1, ok! recupero attivo, respiro, mi raccomando, sempre addome, contratto negli esercizi, plank, corpo sempre in linea, 10 secondi, ci prepariamo per lo sprou, mi raccomando, appoggio bene le mani a terra, 3, 2, 1, vai, appoggio a terra, slancio e torno, slancio e torno, slancio addome contratto, tocco punta e salgo, vai, slancio, tocco punta e salgo, respiro per non andare in affanno e arrivare fino alla fine, ancora 15 secondi, vai, pam, pam e sali, pam, pam e sali, 5, 4, 3, 2, 1, ok! 20 secondi di recupero attivo, abbassiamo un pochino il recupero, sempre più difficile, sempre più alla prova, vamos! esercizio successivo, affondo indietro, ginocchio su, 5, 4, 3, 2, 1, vai, affondo indietro, ginocchio su, affondo indietro, ginocchio su, è un'altra variante senza il tocco a terra, sincronizzo il movimento delle braccia per non perdere l'equilibrio, appoggio bene il piede a terra, non rimango sulle punte, affondo indietro, che sfiora il pavimento, risalgo con il ginocchio su, 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, ok! recupero, sciolgo un po' le gambe, esercizio successivo, 2 jumping jacks più plank, 3, 2, 1, vai, 2 jumping jack e vado col plank e risalgo, 2 jumping jack e scendo in plank e risalgo, addome contratto, testa dritta, appoggio bene le mani a terra, quando sono in plank le braccia sono tese, vai, jumping jack e scendo in plank, 5, 4, 3, 2, 1, ok! 20 secondi, recupero attivo, respiro, riprendo fiato, esercizio successivo, affondo indietro, ginocchio su, andiamo a lavorare sulla gamba che ci mancava, 3, 2, 1, vai, sull'altra gamba, affondo indietro, il ginocchio sfiora il pavimento e risalgo con il ginocchio su, alterno bene il movimento con le braccia, le braccia hanno un ruolo fondamentale sull'equilibrio e sulla sincronizzazione del esercizio stesso, vai, scendo a fondo, sincronizzo, salgo, affondo, salgo, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, riprendiamo fiato, esercizio successivo, 2 jumping jack più salto in plank, massima forza e reattività, 2, 1, vai, 2 jumping jack e salto in plank e risalgo, 2 jumping jack e salto in plank, separo bene i due movimenti, 2 jumping jack e salto in plank, nel salto in plank, addome contratto, qui addome contratto, blocco e risalgo, 2 jumping jack, addome contratto, vado giù e salgo, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, riprendiamo fiato, ci prepariamo al prossimo esercizio, attenzione, andiamo in posizione del plank, facciamo 3 plank in corsa più il tocco spalla, iniziamo con la parte sinistra, 2, 1, vai, posizione del plank, 1, 2, 3, 4, 5 e tocco spalle, vai, 1, 2, 3, 4, 5 e tocco spalle, 1, 2, 3, 4, 5 e tocco spalle, mantieni il ritmo, 1, 2, 3, 4, 5 e tocco spalle, seguo il video, respira, 1, 2, 3, 4, 5 e tocco spalle, vai, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, riprendiamo fiato, 10 secondi, piano piano ritorniamo a terra, dall'altra parte, stesso esercizio, iniziamo con l'altra gamba, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5 e tocco spalle, vai, 1, 2, 3, 4, 5 e tocco spalle, 1, 2, 3, 4, 5 e tocco spalle, respira, addome contratto, vai, 1, 2, 3, 4, 5 e tocco spalle, ancora, fino alla fine non molare, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, esercizio successivo, jumping jack più alzata frontale, 5, 4, 3, 2, 1, vai, jumping jack e alzata frontale, jumping jack e alzata frontale, accelero, mantengo il ritmo, testa dritta, salto sull'avampiede, buttiamo fuori tutte le energie, vamos, jumping jack alzata frontale, jumping jack alzata frontale, vai, vai, jumping jack alternato con l'alzata frontale, 3, 2, 1, ok, recupero attivo, riprendi fiato, respira, prossimo esercizio, salto in plank più doppio squat, 3, 2, 1, vai, salto in plank, sali e doppio squat, 1 e 2, vai, salto in plank, sali e doppio squat, ancora, salto in plank, blocco l'addome, salgo, posizione di squat 1, posizione di squat 2 e mantengo il ritmo, ancora 10 secondi, squat, squat e plank, vai, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, sciolgo le gambe, riprendo fiato, ottimo lavoro, esercizio successivo, 3 jumping jack più 4 sforbiciate, aumentiamo il ritmo, 3, 2, 1, vai, 3 jumping jack, 4 sforbiciate, ancora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ancora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e segui il video e respira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, ok, recupero attivo, respiro, riprendo fiato, ripartiamo con 4 sforbiciate più salto, 5, 4, 3, 2, 1, vai, 4 sforbiciate e jump, 4 sforbiciate e jump, mantengo il ritmo, vai, salto, 1, 2, 3, 4, salto, ancora, 1, 2, 3, 4, salto, fino in fondo, 1, 2, 3, 4, salto, vai, non ti fermare, segui il video, mantieni il ritmo, respira, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, riprendo fiato, ossigeno il corpo, ci prepariamo, 10 secondi, esercizio successivo, squat jump, andiamo ad aggredire gambe glutei, 3, 2, 1, vamos, vai, lavoro sulle braccia, mi raccomando, ammortizza la discesa con le ginocchia, sempre piegate, pam, 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 salto morbido, flessibile, vado su, forza esplosiva, attiviamo gambe glutei, inizia a bruciare, fino alla fine, non rallento, lavoro sulle braccia, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, ottimo lavoro, sciolgo, le gambe bruciano, lo squat jump è un ottimo esercizio per aggredire gambe e glutei, esercizio successivo, corsa sul posto, 3, 2, 1, vai, corsa sul posto, corsettina, rimaniamo sempre su, sempre respirazione, ossigeno il mio corpo, ossigeno le mie fibre muscolari, 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, e cambio in step touch, vai, spostamento laterale, mi sposto a destra e a sinistra, non mi fermo mai, siamo arrivati a 200 calorie, ottimo lavoro, vamos, esercizio successivo, calciata i glutei, 5, 4, 3, 2, 1, e calciata i glutei, vai, salgo in calciata verso i glutei, respiro, mantengo il ritmo, testa dritta, muovo le braccia, esercizio successivo, respirazione, siamo arrivati verso la fine del workout, ottimo lavoro, 3, 2, 1, e rallento, respirazione, e inspiro col naso, scendo, ispiro con la bocca, ancora respirazione, vai, 5, 4, 3, 2, 1, stretching su una gamba, vado a prendere il colo del piede, posizione retta, testa dritta, mi aiuto con un braccio per l'equilibrio, mantengo la posizione del stretching senza forzare, 5, 4, 3, 2, 1, lascio piano, dall'altra parte, colo del piede, controllo l'equilibrio, dopo il workout si perde un po' l'equilibrio, dobbiamo padroneggiare l'equilibrio, mantengo la posizione, mi aiuto col braccio, 3, 2, 1, piegamento su incrocio gamba, incrocio la gamba, il lavoro è sulla gamba posteriore, quindi la gamba frontale è leggermente piegata, scendo dove arrivo e mantengo la posizione di stretching senza forzare, 3, 2, 1, risalgo, cambio, incrocio l'altra gamba, la gamba frontale è leggermente piegata, la gamba dietro tesa dove vado ad attivare lo stretching, mantengo la posizione, testa rilassata e respiro, 5, 4, 3, 2, 1, risalgo, posizione a V, prendiamo il tappettino al volo, 3, 2, 1, e vado in posizione a V, gambe tese, schiena dritta, bacino che spinge verso l'alto senza forzare, dove arrivi, mantieni la posizione, 5, 4, 3, 2, 1, mobilizzazione colonna da terra, prendi aria e in curva, fuori l'aria e in in arca, ancora, prendi aria in curva, fuori aria in arca e mantieni il ritmo, 3, 2, 1, ok, glutei sui talloni, braccia rilassate, appoggio la testa sul tappettino, respiro, 5, 4, 3, 2, 1, il tuo workout è finito, ci vediamo al prossimo allenamento, vamos, ciao ciao! Ciao!